amici in questa puntata di italiano per tutti parliamo di strade d'italia parliamo di strade di piazze di vie di tutti quei termini magari anche strani e vedremo che in ogni regione hanno un po alcuni termini particolari alcune città di quei termini per indicare le strade i luoghi le piazze e quindi come orientarsi in qualche modo anche nella città e nel viaggio o come diciamo andare ad analizzare una cartina stradale capire dove siamo quindi i nomi che vengono associati ai luoghi di una città e anche i principali nomi che vengono non solo associati come strada piazza via eccetera eccetera ma anche proprio i nomi propri non so piazza genova piazza roma piazza garibaldi via 24 settembre eccetera eccetera quindi come abbiamo in italia etichettato e perché andiamo a vedere anche alcune caratteristiche perché abbiamo etichettato in quel modo una piazza una via e poi vedrete che in fondo alla lezione l'ultima slide sarà abbastanza simpatica perché ci sono nomi di vie piuttosto strani che poi vi elenco e vi faccio vedere allora andiamo subito alla prima slide vediamo che la descrizione ci dice che ogni città paese e villaggio d'italia identifica i suoi spazi urbani con precise denominazioni le più comuni sono via una strada comune quindi molto spesso le strade nelle città e non solo sono indicate con il termine via viale è una strada ampia più ampia di una via spesso con una fila di alberi viale viale alberato corso è una strada molto frequentata spesso in centro città il corso è dove c'è un po diciamo la movida dove c'è il movimento proprio nella città nel cuore della città il vicolo è una via stretta e corta la piazza è uno spazio ampio di forma regolare circondato da edifici su tre o quattro lati quindi sotto o anche su tutti e quattro i lati il piazzale è sempre uno spazio ampio di forma regola non regolare ecco quindi potrebbe essere pentagonale o magari rotondo ecco poi ci sono tanti tipi di piazze e di forme nelle piazze d'italia non completamente circondato di edifici magari da una parte del piazzale c'è un giardino ecco con degli alberi la piazzetta è una piazza di dimensioni ridotte il largo è uno spazio ampio spesso all'incrocio tra più vie destinato prevalentemente al traffico capita ogni tanto di avere nelle città italiane un termine una zona che si chiama largo dove si incrociano parecchie vie e quindi c'è molto traffico anche di circolazione stradale accanto a queste troviamo molte altre denominazioni abbastanza comuni come circonvalazione è una via la circonvalazione una via che di solito circonda la la città il lungolago o lungomare una via che fiancheggia il lago o il mare uno spalto è una via che anticamente che viale anticamente proveniente da un'area fortificata quindi un fortino da un fortino escono le vie che escono sono gli spalti una salita una via in salita una discesa evidentemente una via in discesa anche strada strada qualcosa può essere l'identificazione di una di una di una strada di una via angolo traversa stretto come vicolo potrebbe essere anche uno stretto una passeggiata un vico che è una riduzione di vicolo e molte altre alcune denominazioni sono tipiche di una certa città o zona quindi si è abituati ovviamente con l'andare del tempo con la storia a identificare ovviamente a chiamare certe zone nello stesso modo nelle stesse regioni nelle stesse zone ad esempio a venezia troviamo la crosera ecco abbiamo parlato abbiamo parlato di venezia andate a vedere di nuovo venezia perché troverete la descrizione della di tutti questi di cui tutte queste vie o come vengono chiamate a venezia ad esempio la crosera è una via principale il calle ovicolo il campo la piazza è una piazza il campiello è una piazzetta a firenze chiasso è un vicolo a trieste androna è una via stretta e chiusa a genova l'archivolto è un passaggio coperto attraverso un edificio la crosa sempre a genova è un vicolo di solito in pendenza a napoli invece il cavone è una via che segue il percorso di un canale quindi rileggetevi questa queste vie per però possiamo rileggere le crosera calle campo campiello chiasso androna archivolto crosa e cavone sono tutti i termini per identificare degli spazi urbani dei luoghi e questi sono termini che vanno ovviamente sono caratteristici di alcune specifiche città italiane io vi dico questo secondo ad esempio questa questo secondo gruppo di termini io personalmente l'ho sentito poco tranne che campo campiello androna androne archivolto però non sono molto non sono molto diciamo noti in tutta italia sono specifici di una di una certa città di una certa zona per poterli distinguere gli uni dagli altri tutti questi spazi urbani sono identificati da un nome proprio hanno cioè un'intitolazione sono intitolati a qualcuno quali sono i nomi più diffusi a cioè a chi vengono intitolati oltre che chiamarla strada chiamiamo strada qualcosa chiamiamo via o piazza qualcosa per identificare esattamente il luogo ovviamente altrimenti sarebbero tutte uguali da dove derivano questi nomi e che significato hanno quindi perché c'è una data e a cosa corrisponde quella data perché c'è il nome di una città più pratico non è una città come roma è perché perché la capitale o perché c'è un nome di un personaggio e chi è quel personaggio a chi è dedicata allora partiamo andiamo abbiamo suddiviso diciamo le intitolazioni per località per personaggi quindi andiamo a vedere distintamente slides per slide e quali sono le più diciamo più ampie intitolazioni in italia parliamo in tutta italia ovviamente è una sorta di statistica di quali sono le mille più diciamo anche più diffuse intitolazioni in italia in termini di località ad esempio la località roma il termine roma come dire via roma piazza roma largo roma eccetera eccetera sono è la località in italia che è più diffusa e il nome infatti è il nome più diffuso in assoluto quindi abbiamo moltissime in italia città che hanno una piazza una via una strada un viale un largo intitolato alla capitale roma in tutta italia ci sono circa 7.900 vie piazze corsi eccetera 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 dedicati alla capitale considerate che in italia ci sono circa 7.900 qualcosa di più o di meno 7.900 comuni italiani dove c'è un municipio dove c'è diciamo un'amministrazione comunale quindi possiamo all'incirca dire che in ogni comune d'italia più o meno c'è una piazza o una via o un corso o un largo dedicato alla capitale roma all'incirca poi vabbè può esserci il comune che non ce l'ha e diciamo la piccola piccolo borgo piccola cittadina di paese che non è comune ma che ce l'ha però comunque più o meno abbiamo pareggiato i conti tra comuni e intitolazioni della piazza della città roma vittorio veneto piazza vittorio veneto abbastanza famosa e vittorio veneto è il secondo nome di luogo più diffuso in italia è la città veneta vittorio veneto dove fu combattuta nel 1918 una battaglia che portò alla vittoria dell'italia sull'impero austro-ungarico e alla fine della guerra vittorio veneto è quella città e quindi va commemorata per la vittoria dell'italia nel 1918 nella dal termine diciamo della prima guerra mondiale al fine della della guerra in questo caso parliamo di prima guerra mondiale piave via piave nella mia città c'è una via che si chiama via piave potrebbe essere piazza potrebbe essere in altre città un altro diciamo termine che abbiamo visto prima ma il piave è il fiume che scorre in friuli venezia giulia e veneto e che fu la linea di difesa dell'italia durante la prima guerra mondiale andiamo di nuovo vedete a commemorare la prima guerra mondiale il periodo di espansione dell'italia di popolazione di popolamento dell'italia quindi di diciamo di formazione della 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 struttura dell'italia ovviamente si sa che c'è stato il periodo del del risorgimento ma è ovviamente dopo è iniziata a crescere dopo la diciamo la termine della prima guerra mondiale che è stata una guerra difficoltosa molto numerose perdite sia da parte degli italiani che degli altri degli altri nazioni ovviamente cosa è successo è successo che per commemorare quei fatti quegli accadimenti e tutti i morti che ci sono stati e le vittorie in vittorio veneto e sul piave sul fiume si sono andate intitolare in tutta italia parecchie parecchie piazze parecchie vie con questi nomi e soprattutto con il nome della capitale roma un altro luogo importante è fiume fiume un tempo era una città italiana e oggi è una città della croazia fu a lungo contesa tra il regno d'italia e l'impero austro-ungarico durante le due guerre mondiali qui passiamo anzi dalla prima alla seconda guerra mondiale vorremmo in qualche modo ricordarci commemorare questa città che prima era parte dell'italia ma adesso non più è parte della croazia ed è stata ovviamente occupata dall'impero austro-ungarico durante e contesa durante le due guerre mondiali altri nomi comuni di località sono napoli firenze trento e trieste le due città conquistate alla fine della prima guerra mondiale e poi europa allora tento trento e trieste sono le due città conquistate alla fine della prima guerra mondiale e poi europa quindi via napoli per esempio piazza firenze largo trento viale vene viale scusate viale trieste e piazzale europa ok possono essere dei nomi di luoghi ovviamente intitolati a queste città queste queste località parliamo sempre in ordine di di diffusione quindi roma era la prima la più diffusa e qui andiamo a scalare i personaggi storici più diciamo citati e più ricordati e più intitolati nelle vie d'italia allora il più intitolato di tutti è giuseppe garibaldi e vi ricordate che abbiamo fatto una lezione sul risorgimento dove ho descritto rapidamente ma in modo anche completo tutta la storia del risorgimento quindi come si è andata a diciamo a strutturare la storia la vicenda della dell'unità d'italia come si è formata l'italia giuseppe garibaldi è stato l'artefice è stato diciamo lo stratega anzi è stato il patriota che nel 1860 guidò la spedizione dei mille che portò all'unità d'italia 1860 tra i personaggi storici è quello a cui è intitolato il maggior numero di strade e piazze italiane circa pensate 5.500 in tutta italia un altro secondo rispetto a garibaldi in termini di intitolazioni è giuseppe marconi che è un fisico che alla metà delle anni del metà dell'ottocento del 1800 inventò la radio quella che abbiamo ascoltato fino a ascoltiamo ancora però ovviamente tutto sorpassato da internet e in questo caso però giuliero marconi è quello che ha inventato la radio immaginate giuseppe mazzini stiamo parlando di un altro eroe di un altro personaggio della del risorgimento è considerato il padre del risorgimento italiano per il suo impegno a favore dell'unità d'italia anche in questo caso qua questo è il terzo personaggio in ordine di diffusione e poi abbiamo dante alighieri che l'autore della divina commedia che è vissuto intorno tra il 1265 e il 1321 molto nota la divina commedia molto letta soprattutto a scuola poi abbiamo camillo benso conte di cavur che è stato un politico italiano che ebbe un ruolo fondamentale negli eventi che portarono all'unità d'italia nel 1861 e qui ricordiamo e ritorniamo di nuovo al periodo del risorgimento quindi andiamo siamo andati intitolare diciamo alle strade alle vie le piazze agli zone urbane italiane a intitolare per la maggior parte personaggi che hanno fondato l'italia che hanno creato l'italia parte dante lighieri che comunque un personaggio storico uno scrittore abbastanza noto poi abbiamo giacomo matteotti e che è stato un deputato italiano che attaccò il regime fascista di mussolini e fu per questo assassinato nel 1924 e quindi molte piazze molte vie sono intestate a matteotti poi abbiamo giuseppe verdi che è un compositore italiano vissuto tra il 1813 e il 1901 autore del nabucco della ida della traviata dell'otello e di molte altre opere giuseppe verdi piazza verdi per esempio via verdi nella mia città esiste via verdi cesare battisti lottò per l'annessione di trento allora città austriaca ricordate che alcune delle dei luoghi di prima erano trento trieste quindi c'è stata una battaglia per l'annessione di queste due città e cesare battisti è stato questo uno di questi che ha lottato per l'annessione di trento perché prima trento era austriaca e ha lottato per l'annessione al regno d'italia durante la prima guerra mondiale non esisteva ancora la repubblica esisteva ancora il re ovviamente e stiamo parlando della prima guerra mondiale cesare battisti poi abbiamo giovanni ventitresimo noto come il papa buono fu papa dal 1958 al 1963 ecco la foto qua poi abbiamo alessandro manzoni e chi in italia non conosce alessandro manzoni magari non è conosciuto all'estero ma alessandro manzoni è l'autore dei promessi sposi che è un romanzo bellissimo da leggere da scoprire per un pezzo di storia dell'italia ed è considerato alessandro manzoni il padre del romanzo moderno visse tra il 1785 e il 1873 aldo moro è un politico presidente è stato un politico presidente del partito della democrazia cristiana è più recente in questo caso fu rapito e ucciso dal gruppo terroristico delle brigate rosse nel 1976 poi abbiamo antonio gramsci piazza gramsci ad esempio fondatore del partito comunista italiano nel 1921 alcide de gasperi fu il primo presidente del consiglio della repubblica italiana quindi si è formata la repubblica nel 45 per un referendum che ha deciso o la monarchia o la repubblica ha vinto la repubblica e il primo presidente del consiglio è stato de gasperi fondò la democrazia cristiana nel 1943 poi abbiamo umberto primo che è stato è stato un re del regno d'italia fino al 1900 l'anno in cui fu assassinato e poi abbiamo vittorio manuele secondo il primo re d'italia che è quello che ovviamente ha fatto storia insieme a garibaldi ha fatto storia andatevi a vedere di nuovo ve lo dico andatevi a vedere la puntata la lezione sul risorgimento e parliamo di vittorio manuele secondo che è stato il primo re d'italia e il suo periodo storico tra il 1861 al 1878 ecco 61 perché si era appena formata diciamo l'italia poi abbiamo giusto e carducci considerato il poeta nazionale dell'italia unita fu il primo italiano ad essere insegnato quindi al quale è stato assegnato il premio nobel per la letteratura poi abbiamo giacomo leopardi poeta e filosofo è considerato il più grande poeta italiano del novecento è uno dei più importanti al mondo ha fatto poesie straordinarie giacomo leopardi giovanni pascoli un altro poeta e accademico è uno dei principali esponenti della letteratura italiana dell'ottocento e andiamo scalando ovviamente queste sono le intitolazioni delle vie delle piazze quindi non so il prossimo è cristoforo colombo pur essendo molto noto ha scoperto l'america ma è molto ricordato ovviamente in italia moltissime piazze moltissime vie ma meno di altri e magari storici che hanno fondato l'italia o altri scrittori cristoforo colombo esploratore che scoprì l'america si sa nel 1492 leonardo da vinci chi non conosce leonardo da vinci artista architetto scienziato inventore fu uno dei principali esponenti del rinascimento italiano alessandro volta fisico che studiò l'elettricità e inventò la pila nel 1800 famosissimo anche volta ci sono intestati anche scuole anche edifici monumenti a volta tantissimi e abbiamo terminato la lista dei personaggi storici famosi e questa è una lista breve ma una lista di santi quindi il santo è santificato in qualche modo dalla chiesa abbiamo moltissimi santi in italia tantissimi ci sono pensate più intestati più di un santo al giorno quindi ogni giorno c'è un c'è un c'è un santo ma i più famosi più ai quali sono intestate delle vie delle piazze piazza san rocco via sant'antonio largo san francesco o piazza san giovanni ok sono questi questi quattro quindi abbiamo san rocco che del sedicesimo se il quattordicesimo secolo scusate è il santo invocato contro le epidemie quindi è stata intestata la via o la piazza per scacciare le epidemie scacciare le malattie sant'antonio nel tredicesimo secolo che è vissuto diciamo nel tredicesimo secolo quindi è un santo protettore degli animali è uno dei più famosi sant'antonio insieme a san francesco che del dodicesimo tredicesimo secolo ed è il fondatore dell'ordine francescano oppure san giovanni che in quarta posizione in questo caso sembra quasi una pole position ma è del primo secolo e fu uno dei quattro evangelisti che hanno scritto i vangeli e poi dopo i santi abbiamo le intestazioni delle date quindi una via o una piazza o un largo che si chiama 4 novembre il 4 novembre è la data che celebra la fine della prima guerra mondiale nel 1918 ricordate che abbiamo detto che le località ricordavano molto quelle delle delle date della della fine della prima guerra mondiale anche ovviamente i personaggi in certi casi poi abbiamo 25 aprile che celebra la liberazione dell'italia dall'occupazione nazista del 1945 25 aprile è anche una festa nazionale in italia quindi non si lavora il 20 settembre celebra la presa di roma con la breccia di porta pia e in questo caso qua bisogna ritornare a vedere il risorgimento abbiamo tantissimi eventi date personaggi e luoghi che ricordano quel periodo del risorgimento quando si è si è formata l'italia celebra la presa di roma con la quale fu completata ovviamente l'unità d'italia la breccia di porta pia poi abbiamo il primo maggio che è una piazza primo maggio largo primo maggio strada o via primo maggio il primo maggio celebra la festa del lavoro anche il primo maggio è una festa nazionale in italia quindi non si lavora celebra la festa del lavoro e perché perché commemora un evento del 1886 quando a chicago 11 persone persero la vita durante uno sciopero quindi si va diciamo a commemorare quel giorno in cui queste 11 persone hanno perso la vita ovviamente dopo queste 11 ce ne sono state molte altre in italia e anche all'estero però in questo caso il primo maggio si ricorda la festa del lavoro e ovviamente in questo caso parliamo di vie quindi piazza primo maggio via primo maggio il 24 maggio commemora l'entrata in guerra dell'italia nel 1915 ecco in questo caso non ricorda la fine ma ricorda l'inizio quindi fatto di disperazione dell'entrata dell'italia in guerra nel 1915 quindi ricordiamo di nuovo che la prima guerra mondiale è molto ricordata commemorata intitolata in questo caso a luoghi a luoghi o zone in italia nelle città italiane gli eventi della storia d'italia e quindi in questo caso non è una data specifica ma un evento e infatti vedete che uno dei primi oltre a ricordare la prima guerra mondiale è il risorgimento quindi piazza risorgimento via risorgimento eccetera eccetera ma il risorgimento che commemora il periodo che portò all'unità d'italia nel 1860 via della vittoria piazza della vittoria ricorda la vittoria dell'italia nella prima guerra mondiale o parliamo del risorgimento parliamo di prima guerra mondiale della rimembranza piazza della rimembranza commemora rimembranza vuol dire ricordo e commemora i caduti della prima guerra mondiale di nuovo siamo siamo sulla prima guerra mondiale della libertà via via della libertà o piazza della libertà celebra la liberazione del nazifascismo nel 1945 parliamo del 25 aprile come abbiamo visto la data prima e la stesso è lo stesso giorno piazza della repubblica ovvio della repubblica della repubblica celebra la forma di governo scelta per l'italia con il referendum nel 1946 ecco quando praticamente si è scelto come detto prima di avere la repubblica e di abbandonare diciamo il regno governato da un re bene allora queste sono l'elenco diciamo in modo breve ma abbiamo le intitolazioni nomi delle vie e ovviamente distribuiti e raggruppati per ordine per categoria abbiamo le le più le più intitolate le date i luoghi personaggi più intitolati nell'italia l'ultima slide per finire abbiamo dei nomi insoliti esistono sono delle piazze o delle vie in italia molto strane come nomi però esistono li ho controllati volevo essere sicuro di dirvi la cosa giusta l'abbiamo verificati sono andato a cercarli e ci sono questi termini che sono nonostante tutto un po bizzarri un po strani ma esistono ahimè ce ne saranno molti altri ma sono molto simpatici ad esempio c'è via vecchia del pinocchio ad ancona oppure c'è via abbi pazienza a pistoia oppure c'è vicolo bacia donne a città del pieve a perugia via delle sedie volanti o piazza delle sette fate a palermo via caduta delle cavalle o via ammazza la morte a cerveteri a roma provincia di roma via del coltello di mare a casa la casa labate a lecce via guado delle vacche a marina di cecina a livorno via piazza degli orsi e dei boschi a colonio monzese a milano la provincia sempre quella prima la cittadina diciamo è la seconda la provincia dove sono posizionati soliti andare a cercare strada vicinale delle scorpacciate monte argentario a livorno piazza cappello da prete a varigotti a savona piazza del muto piazza del muto dall'accia al collo a pavia via madonna del dolce canto a brindisi e via fiori chiari a milano e per ultima e ce ne sono tantissime che sono questo termine è via senza nome si vede che non sapevano a chi intestarla questa via non hanno trovato un personaggio una data una periodo del risorgimento una città e hanno messo via senza nome chissà perché via senza nome va andiamo in via senza nome 15 a bologna pensare che poi bologna una città abbastanza grande non hanno trovato un personaggio a cui intestare questa via rimarrà penso sempre così perché sono un po tutti questi sono un po nomi caratteristici nomi un po particolari quindi cari amici abbiamo visto in questa lezione tutte le strade le piazze italiane più citate come vengono etichettate come vengono intitolate ce ne sarebbero ancora tantissime bisognerebbe ancora mettersi a studiare mettersi anche qualche volta a ridere perché magari ci sono dei nomi un po strani però questa è una lezione di italiano e ovviamente non dobbiamo strafare come si dice bene spero che la lezione vi sia piaciuta vi ringrazio sempre perché ci seguite sempre continuate a commentare a ringraziare vi chiedo questo se avete se avete viaggiato in italia se siete italiani non siete italiani siete stranieri ci siete stati elencatemi magari qui nei commenti qualche via qualche luogo un po strano o particolare che avete visto o anche vero magari non so visto piazza roma visto via firenze eccetera eccetera così andiamo a raccogliere qualche testimonianza effettiva della presenza di questi termini o di queste vie all'interno dei vostri viaggi per le città italiane come sempre vi chiedo un seguimi e un like sul canale siamo su itapertutti.blogspot.com e come su youtube troverete tutto l'elenco complessivo di tutte le lezioni divise per categorie siamo su tutti i social non sto a riprendere la stessa cosa abbiamo fatto 196 lezioni per di queste andatevele a vedere tutte e ci vediamo nella prossima lezione di italiano per tutti ciao